Io chiedo veramente, lo so, è difficile, è duro, un po' di pazienza perché i giovani medici stanno imparando, stanno diventando validissimi professionisti, la telemedicina ci aiuterà, abbiamo un po' di pazienza perché continuo a ribadire, a fine del 2024 avremo ovviamente la possibilità di dire le zone carenti praticamente non esisteranno più. È un obiettivo ambizioso quello che Francesco Benazzi, direttore generale dell'Ulss2, dà alla sanità trevigiana su un tema sensibile come quello dei medici di base, carenza che riguarda diverse aree del territorio, soprattutto nell'area pedemontana. Lo stesso Benazzi aggiorna il quadro. Ci sono 73 zone dove però gli assistiti hanno tutti un medico, dove però gli assistiti sono posizionati su medici di altri comuni, quindi per l'anziano la difficoltà qual è? L'anziano che deve spostarsi in un altro comune per farsi vedere dal medico o comunque deve chiamare il figlio, farsi aiutare dal figlio, dal comune, dagli assistenti sociali per spostarsi. Questa è la carenza. Comunque quindi non c'è nessuno che non ha il medico curante. Hanno il medico curante in aree diverse, magari distanti anche 7, 8, 10 chilometri dalla propria abitazione. 73 dunque le aree carenti sulle quali si vuole intervenire in leggero miglioramento rispetto alle 96, comunicate sempre dall'Ulss a metà 2022. Qualcosa nella programmazione sarebbe cambiato rispetto al passato e in meglio. La regione Veneto ha attivato borse di studio e l'università ha aperto i numeri, sostanzialmente li ha aumentati. Ci sono poi le nuove generazioni di medici, compresi gli specializzanti, spesso provvisori per questione di graduatoria. Il più giovane medico che abbiamo che fa provvisoriamente il medico in famiglia ha 25 anni, quindi tenga presente che anche l'esperienza non è quella di un medico navigato. Io sono convinto comunque che questi colleghi nel giro di 2-3 anni diventeranno dei medici efficienti. Nuove risorse ma anche nuove tecnologie per arginare una situazione da molti considerata cronica. Pian pianino ritorneremo alla normalità, però dovremo anche utilizzare su questo qui medici in famiglia, stiamo ragionando, il teleconsulto. Quindi il medico in famiglia può vedere dei pazienti che hanno determinate patologie, si serve del contributo dello specialista e così si evitano spostamenti inutili da parte dell'utente. I medici stanno arrivando, nel senso che grazie a questa operazione regione-università noi avremo questi medici.